E' Matteo Renzi, la carta costituzionale, perché io questa mattina ero al bar dei cinesi, come è il mio solito, alle ore 6 del mattino, e al bar dei cinesi, di volta a Mantovana, ci resto 3-4 ore, lavoro con internet del bar dei cinesi, con internet e anche con l'elettricità, perché tengo caricato il mio Mac con l'elettricità del bar dei cinesi, e ogni tanto esco dal bar con un caffè e mi fumo una sigaretta. Mentre sono fuori dal bar con il caffè e mi fumo una sigaretta, viene un mio conoscente che ha in mano il quotidiano La Verità. Io lo so, La Verità è un quotidiano recente, fondato da Maurizio Belpietro, Maurizio Belpietro. Allora parlo con questo mio conoscente, dico, ah, leggi La Verità, lo so, lo so, conosco La Verità di Maurizio Belpietro. E lui mi spiega, eh sì, dice, e Maurizio Belpietro ha avuto da dire con Vittorio Feltri, Vittorio Feltri, per cui Maurizio Di Pietro ha fondato un suo quotidiano, che è La Verità. E gli dico, ma perché Maurizio Belpietro ha avuto da dire con Vittorio Feltri? E lui mi dice perché il 4 dicembre 1996-97, il 4 dicembre 2016, il 4 dicembre 2016, ci fu un referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi per ridurre il Parlamento. Eliminare il Senato della Repubblica e far restare solo la Camera dei Deputati. E Vittorio Feltri era d'accordo con Matteo Renzi, invece Maurizio Belpietro non era d'accordo. Per cui hanno ridicato, ma Maurizio Belpietro ha fondato il nuovo quotidiano La Verità. E io gli dico, ma guarda che la questione del referendum, sì è vero che Vittorio Feltri è di destra, però il referendum di Matteo Renzi, no? No, sì, no, sì, no, sì, no, era un referendum tutto sommato di destra, perché ridurre il Parlamento e potenziare il governo è un'operazione di destra. Se Maurizio Belpietro, che è di destra, non era d'accordo sul referendum di Matteo Renzi, è solo perché Matteo Renzi è antipatico alla destra. Siccome viene dal PD e il PD verrebbe dal Partito Comunista, tutti pensano che Matteo Renzi sia un comunista, che ho detto io, invece Matteo Renzi non è comunista. I comunisti non ci sono più, non ci sono più i comunisti, che il PD è figlio del Partito Comunista, ma la pensa diversamente il PD dai comunisti. Il mondo è cambiato, il comunismo non c'è più neanche i NURS e questo mi guarda un po' storto, perché questo amico mio, che aveva in mano la verità di Maurizio Belpietro, era contro il referendum di Matteo Renzi, era contro il referendum di Matteo Renzi e io gli dico ma guarda che a favore del referendum di Matteo Renzi ha votato pure Giuliano Pisapia, lo sanno pure le pietre, che anche Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, proveniente mi pare da Comunione e Liberazione o Sinistra e Libertà, ha votato sì, anche Giuliano Pisapia, anche Giuliano Pisapia ha votato sì, perché era un referendum trasversale, trasversale e in ogni caso era più un referendum di destra che di sinistra. E il mio amico è rimasto sbalordito ed è rimasto ancora più sbalordito quando io, 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 io Serafino Massoni, che sono un filosofo un po' stoico e un po' cinico, un po' stoico e un po' cinico, ho chiudo il discorso dicendoti, se io ero Matteo Renzi, le davo così le dimissioni al governo, capito? le davo così, perché io avrei detto a tutti, io se fossi stato Matteo, avrei detto a tutti, io Matteo Renzi mi sono beccato il 40% dei voti degli italiani, di quelli che sono andati a votare, il 60% di quelli che hanno votato no, sono tutti sparpagliati, sono tutti sparpagliati e il 40% unito lo distrugge il 60% sbaragliato, questa è la tecnica militare. Capito amici mia che è successo stamattina? Mi è toccato di tornare a parlare del referendum costituzionale di Matteo Renzi e io ho fatto così a mio amico, se io ero Matteo Renzi, Matteo Renzi, essendo io un filosofo un po' stoico e un po' cinico, le dimissioni al governo le davo così, ok cari amici? perché è il referendum, tutto sommato era di destra e è il blocco di destra e anche il movimento pentastellato che ha votato contro il referendum di Matteo Renzi, ha votato contro il referendum non perché il referendum non piaceva, ma solo perché l'aveva proposto Matteo Renzi, che non è simpatico, non è simpatico, non è simpatico, ma io me ne sarebbe fregato. Va bene cari amici, cose che succedono al bar dei cinesi di Volta Mantovana, a tutti i dati cari saluti da Serafino Massoni.